la stagione 1815 è già a buon punto e verrebbe da pensare che non si parli d'altro che di wellington e waterloo invece c'è una piccola differenza rispetto al 1814 quando tutte le conversazioni vertevano sul più intramontabile degli argomenti mondani le nozze come di consueto le speranze matrimoniali della schiera di debuttanti si concentrano sulla famiglia bridgerton e nello specifico sul maggiore dei fratelli disponibili benedict certo non possiede un titolo ma tale mancanza è perfettamente compensata dal suo bel volto da una figura attraente e dal cospicuo patrimonio di fatto l'autore ha udito in più di un'occasione una madre ambiziosa dichiarare riferendosi alla propria figlia sposerà un duca o un bridgerton dal canto suo mister bridgerton sembra non curarsi affatto delle giovani signore che frequentano gli eventi mondani partecipa a quasi tutte le feste ma non fa altro che guardare la porta sembrerebbe in attesa di una persona speciale magari una potenziale sposa da le cronache mondane di lady whistledown 12 luglio 1815 prologo tutti sapevano che sophie beckett era una figlia illegittima tutti i domestici lo sapevano ma volevano bene alla piccola sophie e si erano affezionati a lei sin da quando era arrivata a penwood park all'età di tre anni un fagottino avvolto in un soprabito troppo grande lasciato sulla soglia di casa una notte piovosa di luglio e siccome le volevano bene fingevano che fosse esattamente quel che il sesto conte di penwood diceva che era la figlia orfana di un vecchio amico anche se la sfumatura verde muschio degli occhi e quella biondo scuro dei capelli ricordavano tanto quella del conte anche se somigliava come una goccia d'acqua alla vecchia contessa da poco scomparsa e il suo sorriso era identico a quello della sorella del conte stesso nessuno voleva ferire i sentimenti di sophie o rischiare il posto sollevando l'argomento il conte richard gunningworth non parlava mai delle origini della bambina ma non poteva ignorare che era sua figlia nessuno oltre a lui aveva mai potuto leggere la lettera che la governante aveva trovato nella tasca di sophie la notte piovosa in cui era stata abbandonata davanti alla soglia di casa il conte l'aveva subito bruciata nel caminetto era rimasto a guardare il foglio che si accartocciava e anneriva tra le fiamme poi aveva ordinato che fosse approntata una stanza per la piccola accanto alla nursery da allora lei era rimasta sempre lì lui la chiamava sophie e lei si rivolgeva a lui chiamandolo signore quando si incontravano poche volte l'anno nelle rare occasioni in cui tornava da londra quel che più importava era che sophie sapeva di essere una figlia illegittima non era in grado di dire come l'aveva capito ma l'aveva sempre saputo fin dall'inizio conservava pochi ricordi della sua vita precedente all'arrivo a penwood park ma rammentava un lungo viaggio in carrozza attraverso l'inghilterra e anche che sua nonna terribilmente smunta tra penosi colpi di tosse le aveva detto che sarebbe andata a vivere con suo padre ma soprattutto ricordava ancora quella sera di pioggia quando si era trovata da sola davanti a una porta chiusa sapendo che la nonna era lì vicino che aspettava nascosta tra i cespugli per vedere se l'avrebbero accolta il conte le aveva sollevato il mento con le dita esponendo il suo viso alla luce e in quel momento avevano saputo entrambi la verità la situazione era rimasta stabile finché il conte aveva deciso di sposarsi sophie aveva accolto con grande entusiasmo la notizia la governante aveva saputo dal maggiordomo che l'aveva sentito dal segretario del conte che il conte intendeva passare più tempo a penwood park ora che aveva una famiglia e anche se le sue lunghe assenze non le pesavano granché perché era difficile sentire la mancanza di qualcuno che non le prestava mai molta attenzione sophie era convinta che se l'avesse conosciuto meglio avrebbe sicuramente patito la sua mancanza magari se avessi avuto modo di conoscerlo meglio lui non sarebbe andato via tanto spesso per giunta la governante parlando con la guarda rubiera aveva detto che secondo il maggiordomo dei loro vicini la futura moglie del conte aveva già due figlie più o meno della stessa età di sophie dopo sette anni passati da sola nella nursery la prospettiva l'aveva entusiasmata diversamente dagli altri bambini della zona non era mai invitata alle feste nessuno aveva mai osato rinfacciarle che era una figlia illegittima farlo equivaleva a dare del bugiardo al conte il quale aveva subito dichiarato che sophie era la sua protetta senza più tornare sull'argomento ma allo stesso tempo il conte non aveva mai fatto niente perché sophie fosse accettata dal resto della comunità e così all'età di dieci anni i migliori amici di sophie erano le cameriere e i valletti la governante il maggiordomo erano le due figure che considerava più simili a una coppia di genitori adesso però stava per avere due vere sorelle o sapeva che non avrebbe potuto chiamarle così lei era solo sophie maria beckett la protetta del conte ma avrebbero vissuto insieme come sorelle ed era questo quel che importava perciò un pomeriggio di febbraio sophie si era trovata nel vasto atrio ad attendere insieme alla servitù schierata al gran completo l'arrivo del conte e a guardare ansiosa fuori dalle finestre aspettando di vedere spuntare in fondo al viale d'accesso la carrozza che aveva a bordo la nuova contessa e le sue due figlie che dite le piacerò sussurrò a mrs gibbons alla governante alla moglie del conte intendo dire certo che le piacerai cara sussurrò di rimando mrs gibbons ma il suo sguardo era parso meno sicuro del tono con cui aveva parlato la nuova contessa poteva reagire male alla presenza in casa di un peccato di gioventù del marito e studierò insieme alle sue figlie sarebbe assurdo farti studiare separatamente sophie aveva annuito pensosa poi era uscita in un'esclamazione soffocata quando aveva visto la carrozza imboccare il viale eccoli disse mrs gibbons si era chinata per carezzarle la testa ma sophie era già corsa alla finestra al colmo dell'eccitazione il conte era sceso per primo poi aveva aiutato le due ragazze a smontare dal veicolo indossavano un identico soprabito nero una aveva un nastro rosa tra i capelli l'altra un nastro giallo poi mentre le ragazze si facevano da parte il conte aveva teso la mano all'ultimo passeggiaro a bordo della carrozza senza fiato per l'emozione sophie aveva atteso di vedere sbucare la nuova contessa vorrei tanto aveva bisbigliato incrociando le dita vorrei tanto piacerle chissà se la contessa l'avesse presa a benvolere anche il conte le avrebbe mostrato un po d'affetto trattandola come una figlia o quasi e insieme avrebbero formato una vera famiglia vedendo attraverso i vetri la grazia con cui la nuova contessa scendeva dalla carrozza sophie aveva paragonato l'eleganza delle sue movenze a quelle di una lodola che veniva spesso a bagnarsi in una piccola vasca del giardino i raggi del sole di quella bella giornata invernale facevano splendere la piuma turchese che adornava il suo cappello è bellissima aveva sussurrato sophie aveva lanciato un'occhiata a mrs gibbons controllando la sua reazione ma la governante stava rigida sull'attenti lo sguardo fisso davanti a sé in attesa che il conte presentasse la sua nuova famiglia alla servitù sophie aveva sbarrato gli occhi chiedendosi improvvisamente dove doveva mettersi tutti gli altri sembravano avere il loro posto i domestici erano allineati secondo il loro rango partendo dal mordomo fino all'ultima sguattera perfino i cani stavano accucciati disciplinatamente in un angolo tenuti al guinzaglio dal loro guardiano ma sophie non aveva un ruolo preciso se doveva essere considerata come una figlia il suo posto era accanto all'istitutrice lo stesso se era la protetta del conte ma miss timmons aveva accusato un improvviso malessere un forte raffreddore che le impediva a suo dire di assistere con il resto del personale all'arrivo della contessa nessuno dei domestici ci aveva creduto per la verità anche perché era stata benissimo fino alla sera prima ma la ragione di quel piccolo inganno era perfettamente comprensibile sophie era in fin dei conti la figlia illegittima del conte e nessuno voleva prendersi la responsabilità di presentarla alla nuova padrona di casa poiché quel gesto poteva apparire un affronto e la contessa avrebbe dovuto essere cieca stupida o entrambe le cose per non capire all'istante che sophie era qualcosa di più che la protetta del suo nuovo marito presa da un'improvvisa timidezza sophie si era ritirata in un angolo quando due valletti avevano aperto con un inchino i battenti della porta d'ingresso le due ragazze erano entrate per prime facendosi subito da parte per lasciare passare il conte e la contessa il conte aveva presentato la moglie e le sue figlie al maggiordomo e il maggiordomo aveva presentato a sua volta i domestici sophie era rimasta in attesa che venisse il suo turno il maggiordomo aveva presentato i valletti il capo cuoco la governante gli stallieri il sophie aveva atteso ancora poi era stata la volta delle aiutanti in cucina delle cameriere delle sguattere e sophie era sempre lì in attesa il maggiordomo ramsey aveva presentato infine l'ultima delle sguattere una ragazza di nome dolci che era stata presa a servizio da appena una settimana il conte aveva annuito e aveva mormorato qualche parola di ringraziamento mentre sophie era lì che aspettava allora si era schiarita la gola e si era fatta avanti accennando un sorriso imbarazzato non aveva molta confidenza con il conte ma glielo facevano sempre vedere quando veniva in visita a penwood park e lui le dedicava di norma qualche minuto del suo tempo informandosi sui suoi progressi negli studi prima di congedarla sophie si era detta che il conte avrebbe continuato a chiederle come andava lo studio anche adesso che era sposato che gli avrebbe fatto piacere sapere che era capace di risolvere i calcoli con le frazioni e che miss timmons si era congratulata con lei per la sua perfetta padronanza del francese lui però stava dicendo qualcosa alle figlie della contessa ed era parso non accorgersi della sua presenza sophie aveva tossicchiato più forte e aveva detto signore con una voce flebile e strozzata che rivelava tutto il suo imbarazzo il conte si era girato verso di lei ah sofia non avevo visto che eri qui anche tu sophie aveva sorriso sollevata si era solo distratto evidentemente e questa chi è aveva chiesto la contessa muovendo un passo avanti per osservarla meglio la mia protetta aveva risposto il conte sofia beckett la contessa aveva squadrato sofi con uno sguardo penetrante la sua espressione era gelida e sprezzante e lo era diventata sempre di più sempre di più capisco aveva detto infine e tutti i presenti furono certi all'istante che era vero la contessa aveva capito rosamond posi aveva detto allora rivolta alle figlie venite con me le bambine si erano messe prontamente a fianco della madre sophie si era azzardata a indirizzare loro un sorriso speranzoso la più piccola delle due aveva risposto al sorriso ma la maggiore che aveva i capelli color dell'oro aveva sollevato il naso in aria e aveva distolto lo sguardo con un atteggiamento sdegnoso come quello della madre deglutendo a fatica sophie aveva sorriso di nuovo alla sorella che era sembrata meno ostile ma stavolta la bambina si era morsa il labbro inferiore e aveva abbassato gli occhi fissando il pavimento indecisa la contessa aveva voltato le spalle a sophie e aveva detto ai conte immagino che le stanze per rosamond e posi siano pronte su nella nursery aveva risposto il conte accanto a quella dove sta sophie era seguito un lungo silenzio ma la contessa aveva preferito evidentemente non discutere di certe cose davanti alla servitù perché aveva detto vorrei andare di sopra e si era diretta verso le scale accompagnata dal marito e dalle figlie sophie li aveva seguiti con lo sguardo mentre salivano e quando erano spariti alla vista si era girata verso mrs gibbons e le aveva chiesto pensate che dovrei andare anch'io di sopra a dare una mano potrei mostrare la nursery alle figlie della contessa mrs gibbons aveva fatto un cenno di no con il capo credo che siano stanche aveva mentito vorranno fare il riposino pomeridiano sophie aveva aggrottato dubbiosa la fronte le avevano detto che rosamond aveva 11 anni e posi 10 non erano un po troppo cresciute per fare ancora il riposino mrs gibbons l'aveva confortata dicendo perché non mi fai un po di compagnia la cuoca mi ha detto che ha appena sfornato i biscotti saranno ancora caldi sophie aveva annuito e aveva lasciato l'atrio insieme a lei quella sera avrebbe avuto tutto il tempo di conoscere le due nuove arrivate avrebbe mostrato loro la nursery avrebbero fatto amicizia e in men che non si dica sarebbero diventate praticamente sorelle aveva sorriso sarebbe stato fantastico avere delle sorelle ma le cose non erano andate come sophie aveva sperato non aveva rivisto rosamond nei posi e nemmeno il conte e la contessa per quel che importava fino all'indomani quando era entrata nella nursery per cenare aveva notato che la tavola aveva solo due coperti non quattro e miss timmons miracolosamente guarita dal raffreddore aveva spiegato che rosamond e posi erano troppo stanche per il viaggio e che avevano deciso di saltare la cena tuttavia le bambine dovevano pur studiare e così il mattino dopo si erano presentate nella nursery marciando nella scia della madre sophie che aveva cominciato la lezione un'ora prima aveva sollevato con grande curiosità lo sguardo dal suo compito d'aritmetica stavolta non aveva sorriso alle due nuove venute le sembrava di aver capito che non era il caso miss timmons aveva detto la contessa l'interpellata aveva accennato un inchino mormorando contessa il conte mi dice che vi occuperete dell'istruzione delle mie figlie farò del mio meglio milady la contessa aveva spinto avanti la maggiore quella con i capelli color dell'oro e gli occhi azzurri come il fiordaliso sophie si era detta che era somigliantissima alla bambola di porcellana che il conte le aveva mandato da londra per il suo settimo compleanno questa è rosamond aveva detto la contessa a 11 anni e lei aveva aggiunto presentando l'altra bambina che aveva continuato a fissarsi imbarazzata le scarpe è posi dieci anni sophie aveva guardato posi con grande interesse diversamente dalla madre e dalla sorella aveva i capelli e gli occhi scuri e le guance piuttosto paffutelle anche sophie ha dieci anni aveva detto miss timmons la contessa aveva stirato le labbra con evidente irritazione vorrei che mostraste alle mie figlie la casa e il giardino miss timmons aveva annuito senz'altro sophie metti giù la lavagnetta riprenderemo più tardi la lezione di aritmetica solo le mie figlie l'aveva interrotta la contessa con un tono insieme gelido e rovente vorrei dire due parole a sophie da sola sophie sorpresa ed emozionata si era fatta coraggio e aveva cercato di incontrare lo sguardo della contessa ma si era fermata all'altezza del mento mentre l'istitutrice accompagnava rosa mondeposi fuori dalla stanza aveva atteso ansiosamente di sentire quel che la nuova sposa del conte voleva da lei so chi sei aveva detto la contessa appena la porta si era richiusa e cioè sei la sua figlia bastarda non cercare di negarlo sophie non aveva detto nulla era la verità certo ma nessuno aveva mai osato dirlo apertamente almeno non davanti a lei la la contessa le aveva sollevato bruscamente il mento e l'aveva costretta a guardarla negli occhi stammi bene a sentire aveva detto minacciosa puoi vivere qui a penwood park e anche seguire le lezioni insieme alle mie figlie ma sei solo una bastardella e non sarai mai altro che questo non fare mai ripeto mai lo sbaglio di crederti uguale a noi sophie aveva emesso un debole lamento le unghie della contessa le stavano graffiando la parte inferiore del mento mio marito aveva proseguito la contessa sente chissà perché di avere una sorta di responsabilità nei tuoi confronti è ammirevoli che sia pronto a riconoscere i suoi errori tuttavia per me è un insulto averti qui nella mia casa nutrita vestita educata come se fossi davvero sua figlia ma lei era davvero sua figlia e viveva lì da molto prima della contessa e delle sue due bambine la contessa le aveva lasciato andare di colpo il mento non voglio averti tra i piedi aveva sibilato non rivolgermi mai la parola e cerca di stare alla larga eviterai anche di parlare con rosa mondeposi tranne durante le lezioni adesso sono loro le figlie del conte e sarebbe indecoroso che avessero la minima confidenza con una come te hai qualche domanda da fare sophie aveva scosso il capo bene ciò detto la contessa aveva abbandonato la stanza lasciandola lì boccheggiante con le gambe tremanti e con gli occhi gonfi di pianto poco alla volta sophie aveva appreso qualcosa di più sulla sua precaria situazione nella casa i domestici sapevano sempre tutto e quel che sapevano era infine giunto alle orecchie di sophie la contessa che si chiamava araminta aveva insistito fin dal primo giorno perché sophie fosse mandata via il conte si era opposto e le aveva risposto freddamente che non pretendeva che le volesse bene o la considerasse con simpatia ma solo che accettasse il fatto compiuto non aveva nessuna intenzione di tornare sulla decisione presa sette anni prima di assicurare il mantenimento della bambina rosamond e posi influenzate da araminta trattavano sophie con ostilità e altezzoso disdegno anche se posi non era dispettosa e maligna come la sorella maggiore rosamond si divertiva a pizzicare crudelmente il dorso della mano di sophie quando miss timmons non la guardava sophie non aveva mai detto niente anche perché dubitava che l'istitutrice avrebbe avuto il coraggio di rimproverare rosamond che sarebbe subito andata a lamentarsi da araminta raccontando le cose a modo suo e seppure qualcuno aveva notato i lividi che sophie aveva sempre sulle mani non ne aveva mai fatto parola posi era talvolta più gentile anche se di norma si limitava a sospirare mamma dice che non devo darti confidenza il conte peraltro non era mai intervenuto la vita di sophie era andata avanti così per quattro anni fino al giorno in cui il conte aveva sorpreso tutti mentre beveva il tè in giardino portandosi una mano al petto con un raucolamento e cadendo a faccia in giù sull'astricato non aveva ripreso conoscenza erano rimasti tutti attoniti e sgomenti il conte aveva solo 40 anni chi avrebbe potuto immaginare che sarebbe morto così giovane la più sbalordita di tutti fu araminta che aveva cercato sin dalla prima notte di nozze di concepire un erede potrei essere incinta si era affrettata a dire ai rappresentanti legali del conte non potete attribuire il titolo a qualche lontano cugino quando io potrei avere in grembo il suo erede ma non era incinta e quando un mese più tardi era stato aperto il testamento del marito i legali avevano voluto lasciare il tempo alla contessa di appurare se era gravida oppure no araminta era stata costretta ad accettare il nuovo conte un giovane dissoluto che era quasi sempre ubriaco le ultime volontà del conte non riservarono in generale grosse sorprese qualche lascito ai servitori più fedeli un fondo per assicurare una dote dignitosa a rosamonda a posi e anche a sofi poi il legale aveva letto le disposizioni che riguardavano direttamente araminta a mia moglie araminta gunningworth contessa di penwood lascio una rendita annua di 2000 sterline tutto qui aveva esclamato araminta a meno che non accetti di ospitare e prendersi cura della mia protetta miss sofia maria beckett fino al compimento del ventesimo anno di età nel qual caso la sua rendita annua sarà triplicata raggiungendo l'ammontare di 6000 sterline non la voglio quella là aveva sussurrato araminta non siete obbligata a tenerla con voi le aveva ricordato il legale potete accontentarmi della miseria di 2000 sterline l'anno non credo proprio il legale che doveva sbarcare il lunario con una somma ben inferiore aveva evitato di fare i commenti il nuovo conte che aveva continuato a bere per tutta la durata di quella riunione si era limitato a scrollare le spalle araminta si era alzata in piedi cosa avete deciso allora aveva chiesto il legale la terrò con me devo convocare la ragazza per darle la notizia araminta aveva scosso la testa glielo dirò io stessa ma quando aveva incontrato sophie aveva omesso di riferirle alcuni importanti particolari grazie a tutti la terapia